C'è una proposta molto interessante della quale per ora non posso rivelare i dettagli. Lo ha detto il sindaco di Como, Mario Landriscina, parlando del futuro dello storico cineteatro Politeama, chiuso dal 2005. Posso solamente dire, ha proseguito il primo cittadino, che la proposta arriva da un soggetto autorevole, un'istituzione che vuole ingaggiare una scommessa importante, ed è una proposta che mi piace, ha detto Landriscina. Il Consiglio Comunale ha deliberato che il Politeama resti un sito di cultura e l'iniziativa va in questa direzione. Il Politeama resterà un luogo di cultura, un teatro e uno spazio per le infinite attività musicali della provincia. Credo che la proposta verrà formalizzata nelle prossime settimane. La struttura fu il cuore pulsante della cultura comasca. Luigi Pirandello scelse le assi scricchiolanti di Via Cavallotti per presentare sei personaggi in cerca d'autore. Dal palco del Politeama, oltre a Pirandello, sono passati Marinetti, Vittorio Gasman, Macario, Celentano, solo per citare alcuni grandi nomi.